Ehi, benvenuti ad un nuovo video! Sapevi che sulla terra su cui viviamo esistevano animali giganti? Il fatto che ci siano moltissimi posti da esplorare ci fa pensare che ci siano creature lì fuori ancora sconosciute. Quindi, dopo una breve ricerca, ho trovato 10 creature giganti beccate dalle telecamere. Lascia a te il dilemma di crederci o meno a loro. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10 Nel marzo 2016, lo youtuber Pen Plate ha caricato un video di una creatura strana trovata nel Tamigi. Mentre si trovava su un tour Emirates per osservare l'intera città, ha trovato qualcosa che si muoveva in acqua. Ha immediatamente preso il telefono ed è iniziato a filmare. Sfortunatamente, la ripresa è fatta da lontano, quindi tante persone, anche su internet, hanno provato a capire cosa fosse. Alcune teorie dicono una balena o un sottomarino, altre addirittura l'Oakness. Questo significa però che abbia notato dalla Scozia all'Inghilterra. A quanto pare la creatura ha delle spine sulla schiena. Purtroppo si vede per poco tempo, sparendo in acqua subito. Cosa pensi che fosse? Numero 9 Il video seguente proviene dal canale Video News Viral nel 2014. Se crediamo al titolo del video, allora la marina americana sta combattendo contro un mostro gigante nel deserto vicino a Durango, nel New Messico. Il video inizia con due soldati americani che osservano un mostro alieno che viene distrutto da degli aerei militari. Secondo alcune persone, il mostro assomiglia ad una medusa, mentre altri che sia un test di nuove tecnologie. Secondo il canale, il video è stato cancellato inizialmente da YouTube. Quindi si pensa che sia un'operazione segreta in cui l'alieno, che stava dando problemi nel deserto, sia stato distrutto dalla Air Force americana. Questa è l'unica informazione disponibile in giro. Numero 8 In questo video, caricato nel luglio 2008, vediamo un mostro strano che non ho mai visto. Secondo l'uomo che l'ha filmato, il mostro è un odag. L'odag è un mostro con delle spine sulla schiena e carnivoro, tipico del folklore americano. Questo mostro si dice sia stato scoperto nel 1893, nelle zone di Rhinelander, nello stato del Wisconsin. La bestia ha la testa di una rana, la faccia di un elefante, grossi artigli e una lunga coda, come quella dei dinosauri. Ci vorrebbero ore per catturarlo. La foto con la storia è andata anche sui giornali. L'odag può essere lungo anche due metri e ha una puzza tremenda. Secondo alcune persone, si aggira ancora nel profondo dei boschi. Numero 7 Il filmato seguente è stato fatto nel novembre 2016. Vediamo una creatura gigante che si muove nei cieli di Pechino, in Cina. Secondo l'uploader, section 51, questo evento è stato soppresso dalle autorità locali. Nessun giornale ha potuto parlarne e anche la stampa internazionale è rimasta zitta. La creatura non sembra aggressiva, ma i ricercatori cinesi pensano che sia di origini extraterrestri. I ricercatori pensano che questi esseri vogliono rendere la Cina la loro base. Osservando il filmato, vediamo diversi elicotteri militari che accercano il gigante. Cosa potrebbe essere? È possibile anche che sia un'animazione fatta per spaventare le persone, ma se fosse un vero alieno? Numero 6 La prossima creatura si chiama Siren Head. Una creatura umanoide con due altoparlanti nella testa da cui fa uscire il suono. Questa creatura è divenuta popolare negli ultimi mesi, con tanti avvistamenti nel mondo. Se senti il suo suono ti conviene correre in fretta. In alcuni casi questo suono può anche danneggiarti l'udito e provocare forti mal di testa. Oltre a questo, Siren Head produce anche dei suoni per potersi camuffare e mimare suoni per adescare le prede. Nel marzo del 2020, Siren Head è stata avvistata in Australia. Osserva. Questo avvistamento è molto inquietante, ma il suo movimento è piuttosto goffo. Forse non riesce a muoversi molto bene. L'uomo che ha filmato tutto ciò non riusciva a crederci ed è scappato subito dopo. Numero 5 In questo video vediamo un ragno gigante che scala un palazzo da qualche parte nel sud della Russia. Un uomo si è svegliato presto alla mattina e quando si è affacciato dalla finestra ha visto qualcosa nei cespugli sotto di lui. Ha preso subito la videocamera ed è riuscito a filmare un ragno mostro con quattro gambe lunghe. Quando il video è stato caricato la prima volta, molte persone si sono spaventate, temendo un'invasione di ragni giganti. Ma non è la prima volta. In quest'altro video vediamo un ragno che scala un palazzo nella città di Mosca. Alcuni commenti lo confrontano addirittura allo Slenderman. Le opinioni sono divise. Alcuni pensano che esista veramente, altri che sia solo un'animazione digitale. Numero 4 Sappiamo ora che gli avvistamenti di mostri volanti sono molto comuni. Molto spesso si scopre che sono dei semplici fenomeni naturali, ma una piccola percentuale rimane senza una spiegazione. Nel filmato seguente, di circa 2016, vediamo un uomo che guarda fuori il finestrino di un aereo. Durante il volo verso Zambia, vede qualcosa in distanza e decide di filmarla. Ad un certo punto sembra che si avvicini e riusciamo a capire che sia una creatura aliena gigante. Non ho idea di cosa fosse specificamente, ma sembra che sia fuori da questo mondo. Potrebbe essere anche finta. Cosa ne pensi? Fammi sapere nei commenti. Numero 3 Nel video riusciamo a vedere una creatura gigante che in tanti pensano che sia Godzilla. Un mostro dinosauro con tre spine sulla schiena. C'è una grossa possibilità che sia finto, ma non sono riuscito a trovare il video originale. Solo questo. Il mostro simil Godzilla sembra sia stato beccato in una zona remota, ma non ho idea di dove sia di preciso. Se fosse stato reale, molte persone sarebbero state in grado di vederlo, viste le dimensioni. Pensi che Godzilla sia vero? O che esista solo nei film? Numero 2 La foto che vedete ora è stata scattata nel dicembre 1942 dalla Air Force americana durante un volo di ricognizione RAF 300. Questa immagine è del leggendario troll norvegese che un giorno faceva una passeggiata tra tre boschi nebbiosi sperando che nessuno lo notasse. Se osserviamo la storia mitologica, molte culture ci dicono che questi giganti esistevano. Anche la stessa Bibbia parla di giganti, quindi chissà. Magari questi mostri esistevano veramente? O esistono ancora? Probabilmente no, altrimenti li avremmo già trovati tanto tempo fa. Questa foto del 1942 potrebbe venire da un vecchio film o essere addirittura falsa. La storia fatta attorno ad essa è piuttosto interessante. Numero 1 Sono riuscito a trovare questo video diverse volte durante la mia ricerca di creature giganti. Secondo diverse persone, questo non è altro che Cthulhu, una creatura gigante che viveva nei grandi oceani milioni di anni fa. Questo video del 2017 potrebbe essere la prova della sua esistenza. Immagina di trovarti questo bestione in acqua. Resteresti decisamente scioccato? Penso che molti giornali avrebbero già scritto di questo se la creatura fosse vera. Oppure no? Pensi che queste creature esistano? Ne hai mai incontrata una? Fammelo sapere nei commenti. Se pensi che sia stato un video emozionante, lascia un pollice in su. Vuoi vedere altri video che ho fatto? Premi uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima! Grazie per la visione!